Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti. Porto il saluto da parte del Festival Francescano, questa edizione del 2023, in cui festeggiamo gli 800 anni del sogno di Francesco, un sogno che è diventato regola e che è diventato vita. E lo facciamo, vedete, attraverso tanti eventi come questo a cui assistiamo per partecipare, eventi gratuiti, aperti a tutti e vogliamo continuare in questo modo. Quindi chiediamo di sostenere il Festival attraverso le vostre donazioni, attraverso anche le vostre risonanze su come sta andando. Ringraziamo anche lo sponsor che ci permette in modo particolare di realizzare questo evento, Parmigiano Reggiano. Veniamo però all'incontro di questo pomeriggio, ringraziamo Michela Marzano presente qui con noi. Ci parlerà di sogni fragili e cedo la parola al dottor Giovanni Egizio che ha l'onore di moderare l'incontro e di intervistare l'autrice. Grazie della vostra presenza e buon lavoro. Grazie. Grazie. Bene. Giovanni, l'onore o l'onere dipende da dove si mette? Entrambe. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, il titolo dell'incontro è Sogni fragili, pensando ai sogni del mondo dell'adolescenza. Ma l'incontro con Michela Marzano sul tema Sogni fragili parte da, è stato pensato così anche dagli organizzatori del festival, prende come spunto l'ultimo libro di Michela Marzano che si intitola Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa, edito da Rizzoli, che qui non c'è ma lo potete trovare nelle librerie compresa questa della Coppa Ambasciatori, e che è un libro che affronta il tema del consenso in amore. In amore quando va bene, diciamo, quando non va bene, diciamo, in relazioni non sempre soddisfacenti, corrette e molto spesso anche violente. Affronta il tema del consenso in questo libro partendo da un'esperienza della protagonista che è stata in parte un'esperienza anche di Michela, di un abuso, una violenza subito da un docente alle scuole medie. Nel momento in cui, glielo stavo dicendo prima, io stavo leggendo, ho appena iniziato a leggere questo libro, facendo giornalista, ho messo online la notizia di un docente che veniva processato per una violenza su una ragazzina di 14 anni e che in aula durante il primo grado continuava a tenere come linea difensiva l'argomentazione, sì ma lei era consenziente e io e la mia collega che stavamo mettendo queste notizie ci chiedevamo, ma quale può essere il livello di consenso che dà una ragazzina di 14 anni davanti a un docente con un rapporto di forza e di gerarchia così squilibrato? La domanda è ovvia che si pongono tutti, ma Michela Marzani in questo libro, che poi è anche un romanzo e che quindi racconta esperienze anche da questo punto di vista della vita adulta, su Popo sul tema del consenso fa tutta una serie di ragionamenti da filosofa, qual è, molto interessanti e devo dire in qualche maniera cruciali per cercare di capire un po' di più e cercare soprattutto magari di migliorare la qualità dei rapporti tra uomo e donna che mai come in questo momento sembrano così deteriorati, anche a causa della diffusione di notizie e di continue violenze che le donne subiscono in qualche maniera a vario titolo. Ma siccome sul tema del consenso ci stanno appunto molti livelli di interpretazione e molte gradazioni, è lì che si annida in qualche maniera l'equivoco e anche una grande sofferenza. La prima domanda quindi è d'obbligo ed è quella, e ti chiedo, quando è la prima volta in cui ti sei trovata a interrogarti sul tuo consenso e sulla qualità o sulla consapevolezza del tuo consenso? Allora, grazie Giovanni, buonasera a tutte e a tutti, io sono molto contenta di essere di nuovo ospite del Festival Francescano, la prima volta era stato l'anno scorso, si era parlato di fiducia, non so quante e quanti di voi c'erano, quest'anno il tema è ancora più bello, se posso esprimervi in questo modo, perché dietro il rapporto che c'è tra le regole e i sogni, in realtà si gioca un po' tutta la nostra esistenza, non è solo la regola data da Francesco, ma sono anche proprio le regole che gestiscono la nostra società di cui noi abbiamo bisogno per poter costruire delle relazioni, ma di che tipo di regole esattamente si sta parlando e qual è il rapporto tra, per esempio, e poi rispondo subito alla tua domanda Giovanni, tra la regola del consenso e il sogno dell'amore, c'è bisogno di prendere sul serio il consenso, sì certo, ma come renderlo, come tradurlo, come rispettarlo, a cosa si consente quando si acconsente a una relazione affettiva, e questo è vero in qualunque momento, in qualunque fascia d'età e lo è ancora di più per i più giovani che cominciano ad avvicinarsi agli altri senza sapere esattamente né quello che desiderano davvero né quello che gli altri possono desiderare da loro. Volevo fare questa introduzione più generale perché poi, per quanto riguarda Michela Marzano, il tema del consenso è un tema su cui io giro intorno da moltissimo tempo. Questo libro è appena uscito, è un romanzo, ma io sul tema del consenso nell'etica sessuale, ma anche nell'etica medica, in realtà lavoro da oltre vent'anni. ero già arrivata a Parigi, sono arrivata a Parigi nel 98 e per partecipare al concorso come professore dell'università, professore ordinario dell'università, avevo deciso di fare una tesi d'abilitazione, H-D-R, come si dice in Francia, proprio sul tema del consenso e del rapporto tra consenso, libertà e autonomia. Però il tema della sessualità nel corso degli anni lo avevo messo in sordina, cioè lo ho affrontato molto da un punto di vista di etica medica, ma da un punto di vista di etica sessuale aspettavo la voce giusta, la tonalità giusta. Aspettavo in realtà che venisse il personaggio di Anna, che è la voce narrante di questo libro. perché è estremamente difficile provare a raccontare che cosa vuol dire per una donna essere stata una bambina, una undicenne, il cui consenso è stato calpestato sin dall'inizio, a proposito di sogni infranti. Giovanni faceva riferimento anche a qualcosa che io ho vissuto, il secondo capitolo di questo libro è autobiografico, Anna ha undici anni e in una scuola privata cattolica un professore laico, il professore di matematica, la chiama in cattedra per leggere un passaggio del manuale di biologia e le infila una mano nella tasca dei pantaloni. Luogo protetto, situazione protetta, asimmetria delle relazioni. Anna che aveva frequentato la scuola elementare dalle suore che non trova le parole per raccontare alla mamma quello che le è successo. Siamo alla fine degli anni 70 di certe cose non si parlava, siamo nel 2023 di certe cose in alcuni ambienti ancora non si parla, ma queste cose accadono e possono interrompere un percorso, possono mettere un termine a determinati sogni. E quindi questo libro nasce a partire dal tentativo di capire a cosa si acconsente quando si acconsente. Si acconsente all'amore? Si acconsente a un uomo o una donna che occupano una posizione di responsabilità? Si dice no? Si riesce a dire no? Si dice sì? A cosa si dice sì? E come è stato detto giustamente da Giovanni, in questo momento ci rendiamo conto di quanti adolescenti e quanti adolescenti hanno bisogno di regole e hanno bisogno di trovare quelle parole capaci di nominare quelle situazioni complicate. Quest'estate a un certo punto poi ti ridò subito la parola Giovanni sono uscite le motivazioni di una sentenza del tribunale di Firenze che mi hanno particolarmente scioccato perché venivano innocentati due accusati di stupro collettivo di una giovane diciottenne con la motivazione secondo la quale questi ragazzi non avrebbero capito l'assenza di consenso da parte della ragazza e non avrebbero capito l'assenza di consenso di questa ragazza nonostante questa ragazza avesse detto più volte lasciatemi lasciatemi perché influenzati da determinate immagini pornografiche e da un'assenza di educazione quello che mi ha colpito molto è qualcosa su cui di cui rapparlo anche in questo libro cioè il consumo da parte di tanti ragazzi e di tante ragazze di immagini pornografiche senza che qualcuno spieghi esattamente loro che quello che viene mostrato tante volte non corrisponde alla realtà ed è una forma di violenza e non di incontro e dall'altro l'assenza di educazione noi abbiamo bisogno di mettere delle parole su determinate cose abbiamo bisogno di accompagnare una ragazza che ha tendenza a sentirsi in colpa o a vergognarsi nel momento in cui determinate cose accadono come se fosse colpa sua abbiamo bisogno di accompagnare anche i ragazzi per capire che quel bisogno di essere viste e ascoltate che possono avere tante ragazze non corrisponde necessariamente a una soddisfazione immediata di determinate voglie c'è bisogno di fare tutto un lavoro e non è un caso che in questo libro in realtà la voce narrante è quella di Anna che è una giornalista una giornalista radiofonica che insegna in un corso di master di giornalismo e fa parlare i ragazzi e le ragazze per cercare di fare in modo che la parola possa diventare regola e che ci si riabitui all'ascolto perché solo attraverso l'ascolto al vedere vedere e riconoscere l'altro per quello che è che si può poi costruire una relazione affettiva che non distrugga il sogno dell'amore che poi è il sogno che tutti noi condividiamo poi ci sono vari livelli di amore abbiamo la carità ma anche quella va incarnata c'è l'amore che consiste ad avere una certa progettualità c'è l'incontro perché l'amore è anche sempre poi incarnato nella nostra realtà quotidiana ma quando è che l'altro smette di ascoltare perché l'altro a un certo punto non ci vede più perché determinate parole non emergono perché anche quando quelle parole vengono pronunciate non vengono ascoltate con il corpo che non dimentica e tutte quelle parole che non sono state dette vengono ingoiate che vengono poi riprodotte dal corpo che torna sul luogo del delitto per cercare di recuperare ciò che forse gli è stato strappato un giorno quindi io ho allargato perdonami la risposta alla tua domanda ma volevo metterlo in prospettiva anche rispetto alla tematica proprio di questo festival no certo dicevi lo ricordavi anche tu in questa questa risposta negli ultimi tempi negli ultimi anni ma insomma ormai sono molti anni in cui ci sono movimenti tu ne parli nel libro parli della nascita del me too parli dei processi di violenza più vistosi che ci sono stati e anche clamorosi che ci sono stati in America e che hanno creato grande dibattito e insomma in qualche maniera parli di una presa di coscienza del tema diciamo della questione del consenso che poi io prima citavo l'esempio del docente che si difendeva rispetto a un abuso su una ragazzina di 14 anni ma poi sul tema del consenso si giocano tutte le questioni giudiziarie legate alla violenza sessuale cioè qualsiasi processo c'è sempre la parte che si difende dice ma lei era consenziente e dopo si tratta di andare a vedere quel grado da un punto di vista anche giuridico però ecco nonostante ci sia un'ampia presa di coscienza e una crescente consapevolezza e ci siano movimenti pubblici e continui appelli si ha la sensazione che in qualche maniera abbiano restituito una dimensione collettiva pubblica diciamo del tema da cui tutti si sentono forse un po' più rincuorati ma che non siano riusciti a incidere sulla dimensione privata allora questo è un problema del nostro tempo c'è un distacco che non riusciamo a colmare da filosofa qual è la chiave per spiegarsi questa mancanza in qualche maniera di efficacia perché noi abbiamo un vero problema a livello culturale esiste un'espressione che tante volte si utilizza e su cui io vorrei soffermarmi qualche secondo la cosiddetta cultura dello stupro che naturalmente non è una forma di cultura alta ma esattamente come non è cultura la cultura mafiosa però è quell'insieme di stereotipi che sono fortemente radicati nella nostra società e che dominano la scena pubblica fortemente radicati che portano con sé tutta una serie di stereotipi che noi abbiamo il dovere da docenti da genitori da insegnanti da educatori da educatrici di decostruire si immagina che fare il maschio o fare la femmina significhino cose ben precise che fare il maschio significhi imporsi imporre il proprio punto di vista imporre la propria volontà imporre il proprio desiderio e non soltanto in alcune periferie si è sentito molto parlare di cosiddetti fatti di Caivano ma non solo nelle periferie in qualunque ambiente ci sono grandi intellettuali di sinistra e dire per me grandi intellettuali di sinistra vuol dire parlare delle persone che dovrebbero essere i miei interlocutori prediletti che continuano a ribadire questa cultura dello stupro dicendo oggi si parla dell'impossibilità di fischiare a una ragazza per la strada si dà un nome inglese il cat calling ma in realtà questo è un modo in cui noi abbiamo imparato a fare i maschi ed è questo il problema perché si impara a fare il maschio in un certo modo quando non si è educati sin dall'inizio alla cultura del rispetto che è l'opposto rispetto alla cultura dello stupro ma la cultura dello stupro è radicata e porta a immaginare anche che la violenza e quindi il sogno che si infrange perché poi c'è sempre il sogno di una vita che si infrange di fronte alla violenza sia sempre solo quella facilmente riconoscibile una ragazza che si ritrova con i lividi il sangue che viene stuprata da uno sconosciuto e tutti quelle altre vittime che sono vittime che sono vittime di ambienti protetti io lo ripeto la maggior parte delle violenze accade nei luoghi protetti da persone conosciute nelle scuole nelle famiglie nelle chiese nelle parrocchie sono luoghi in cui queste violenze esistono ma come fare per raccontare qualcosa che talvolta non si vede perché la ferita è profonda ma è dentro e probabilmente porterà anche all'impossibilità di fidarsi nuovamente di qualcun altro di costruire un rapporto io posso leggere un brevissimo passaggio di questo libro che fa riferimento proprio a questa cultura dello stupro ce l'abbiamo tutti in mente un'idea stereotipata dello stupro non proprio uno stereotipo nel senso letterale del termine come il maggiordomo nei romanzi di Agatha Christie ma pur sempre uno stereotipo quell'atto orrendo compiuto da un maschio brutale meglio ancora se sconosciuto lei che cammina per strada lui che l'aggredisce lei che si dibatte lui che la ferisce lei che urla lui che le tappa la bocca lei che piange questo stupro funziona sempre anche se il termine funzionare è altrettanto orribile di questo orlibere stupro ma durante un processo funziona e quello giusto quello buono quello che vieta agli avvocati di provare anche solo a domandare scusi ma lei com'era vestita cosa ha detto ha resistito oppure niente come si comporta in genere con gli uomini che tipo di relazione ha con i maschi quello che fa venire la pelle d'oca se uno dice si è fatta stuprare invece che l'hanno stuparata quello che solleva la coscienza di mamma e papà perché lei poverina non c'entra nulla le cose sulla carta sono semplici c'è un tacito accordo la violenza inizia nel momento in cui una persona è costretta a compiere o subire atti sessuali con forza minaccia inganno o sorpresa ma ma quando è che il consenso se è presente e libero e quando invece è forzato quando è che è pieno deve essere enunciato ossia lo si deve dire esplicitamente oppure può essere sottinteso e implicito si deve firmare un modulo oppure basta fare sì o no con la testa e se lei accetta di dormire con un tizio e magari anche di fare l'amore e poi però l'indomani mattina viene penetrata a sua insaputa magari mentre è ancora addormentata se lei lo conosceva bene e l'ha baciato se dopo i fatti non è traumatizzata non trema non piange non prende o non perde dieci chili vi ho voluto leggere questo brano perché anche nei dibattiti degli ultimi settimane e degli ultimi mesi si sono sentite persone che occupano posizioni di responsabilità a rinviare quasi a una responsabilità da parte di determinate ragazze nel momento in cui accade qualcosa io ho in mente la frase della nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni ragazze testa sulle spalle non dovete consentire a questi animali di fare quello che vogliono che è terribile da tutti i punti di vista intanto perché gli uomini e i ragazzi vengono sistematicamente trattati da animali no stupratori non si nasce si diventa eventualmente e poi perché non è l'attenzione che io faccio che evita determinate violenze perché questo impedisce tutte le persone che subiscono violenze all'interno di ambienti protetti di non trovare le parole per dirlo allora qualcuno potrà dire ma perché questa cioè Michela Marsano viene al festival francescano dove si parla di sogni infranti e parla di violenze di stupro parla di consenso che viene calpestato perché lo ripeto il sogno più grande che tutti i ragazzi e le ragazze hanno è il rispetto e noi abbiamo bisogno però di regole il consenso è una regola qual è però anche il problema come accade ai ragazzi e alle ragazze studentesse di Anna che se io trasformo poi il consenso in una serie in un formulario in un modulo in cui dico questo sì questo no evito la possibilità stessa che la spontaneità possa far parte della relazione cioè la difficoltà del consenso all'interno delle relazioni affettive che non è come il consenso in medicina io firmo il mio consenso informato dopo essere stata informata delle conseguenze del fatto di accettare o meno determinati trattamenti cure lo abbiamo tutti firmato un consenso quando ci siamo fatti vaccinare in quel caso il sì oppure il no sono irreversibili in una relazione a cosa si acconsente in un matrimonio a cosa si acconsente a qualunque cosa tutto è dato per scontato sin dall'inizio oppure c'è una negoziazione continua anche se non esplicita perché c'è bisogno che lo sguardo continui a tenerci presenti come soggetti del nostro desiderio della nostra vita e poi per quale motivo nel momento in cui qualcosa inizia non si dovrebbe poter interrompere quel qualcosa un esempio che viene utilizzato tante volte in Francia dove io insegno è l'esempio del tè allora qualcuno può dire ma cosa c'entra il tè con i sogni con le relazioni affettive e col consenso è un esempio che funziona se io vado a casa di un'amica e l'amica mi propone di bere un tè io posso dire sì grazie io tra l'altro sono cresciuta con dei genitori che mi hanno insegnato che quando qualcuno offre qualcosa per gentilezza si risponde sì grazie per poi imparare che talvolta si può anche dire no grazie il no non implica una mancanza di educazione tutto sta nella modalità attraverso la quale noi diciamo sì oppure no ma torniamo all'esempio del tè io posso dire sì grazie la mia amica può prepararmi una tazza di tè e io poi dopo aver bevuto un sorso di tè posso decidere di non aver più voglia questo significa che la mia amica deve restarci male o deve spingere affinché io finisca di bere il tè oppure il rispetto impone di lasciarmi libera di non bere il tè anche se quel tè è stato preparato questo è un esempio che funziona molto bene con i ragazzi e le ragazze perché plasticamente mostra la possibilità di cambiare idea di iniziare di fermarsi senza che ci sia un obbligo senza che ci sia un senso di colpa perché io ho cominciato a parlare con te e questo dovrebbe implicare poi di accettare tutta una serie di cose io mi sono anche molto allontanata dalla tua domanda Giovanni perdonami ho questa tendenza ad allargare quindi mi fermo perché in realtà credo di aver risposto alla tua domanda su come fare e quindi riprendo il filo educare 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 per decostruire la cultura dello stupro partendo però anche da un'educazione degli educatori perché il problema vero è che le cose vanno nominate in maniera giusta è solo quando le cose vengono nominate in maniera giusta che si diminuisce il disordine e anche la sofferenza è solo quando si ascolta che si può permettere a un sogno di non infrangersi però per questo tanti educatori secondo me devono anche fare un lungo cammino per non imporre il proprio punto di vista perché anche quello vuol dire spingere a cedere e non a consentire perché poi appunto il tema del consenso è all'interno di qualunque tipo di relazione non solo delle relazioni sessuali naturalmente tutti questi ragionamenti che sono in vario modo nel libro sia sotto forma di riflessione che sotto forma di narrazione partono dal punto di vista di Michela partono dal punto di vista della protagonista del romanzo però forse è anche il caso di porsi il problema di guardare il tutto dal punto di vista dell'uomo cioè dal punto di vista di chi quando si arriva alle strette dell'interpretazione del consenso ha la possibilità di in qualche maniera dare una mano nell'interpretazione del consenso perché non possiamo nemmeno arrenderci all'idea che tutti la maggior parte degli uomini siano degli stupratori e anzi naturalmente lo so bene non è così anche se spesso penso ce ne siano molti di non ben educati all'educazione sentimentale diciamo ma siccome tu insegni all'università e quindi vedi le nuove generazioni sono quando siamo sul tema degli adolescenti dei sogni fragili degli adolescenti ma da te vengono a studiare che lo sono lo sono quasi lo sono un pochino di più quindi tu li vedi tutti i giorni li capisci forse in questi anni hai colto qualcosa o comunque hai la possibilità anche di sia di cogliere che di orientare se dovessi dire tenendo nell'obiettivo i maschi come li descriveresti in questa fase di confusione e di violenza diciamo crescente allora il problema secondo me è che i ragazzi e le ragazze sono in maniera diversa ma sono entrambi molto fragili in questo momento proprio perché è come se mancassero delle regole per tornare al tema delle regole ma delle regole umane tant'è vero che chiedono poi anche che tutto venga tra virgolette formalizzato io ho assistito proprio a dei dibattiti tra ragazzi in cui per evitare problemi ragazzi e ragazze avrebbero voluto quasi scrivere qualunque cosa questo sì questo no questo sì questo no questo sì questo no il problema è che se la regola è troppo rigida blocca e paralizza esattamente come l'assenza di regole perché poi che cos'è che fa il sogno dell'amore è tutta quella zona di opacità tutta quella fragilità che non è descrivibile fino in fondo l'anno scorso si parlava di fiducia è centrale nelle relazioni affettive la fiducia e la fiducia è sempre una scommessa e quando io scommetto non so come si comporterà l'altro allora per quale motivo dico questo perché nell'accompagnamento dei più giovani secondo me è necessario accompagnarli accanto alla fragilità noi oggi abbiamo quasi due categorie parlavi dei ragazzi ci sono dei ragazzi quasi paralizzati perché hanno paura qualunque cosa dicono facciano di far male e alcuni che non si pongono nemmeno la questione e fanno male che poi sono molti di coloro che crescono visionando tantissima di questi film pornografici che sono molto violenti e che fanno credere che sia la violenza l'essenza della sessualità per cui è come se ci fosse una dicotomia tra non faccio niente faccio qualunque cosa formalizzo tutto non formalizzo niente non prendo nemmeno in considerazione la voce altrui la cosa di cui c'è bisogno è ricreare il dialogo che poi è l'essenza della filosofia cioè è ricreare il va et vient il io tu quel dialogo che è poi il cuore di ogni relazione il problema è che viviamo anche in una società dove il dialogo è molto raro tu lo sai benissimo anche per il lavoro che fai ma la maggior parte dei cosiddetti dibattiti non sono dibattiti sono monologhi giusto apposti l'uno accanto all'altro senza che ci si ascolti il problema è che il punto di partenza per permettere alle parole di emergere è educare all'ascolto perché solo educando all'ascolto che io educo alla possibilità che la parola altrui possa venire a colpire la mia identità trasformandola cioè abbiamo bisogno di ricreare quella in francia si dice mixité cioè quel mélange quell'insieme quella quello scambio che è poi l'essenza stessa del sogno del relazionale dicevi il tema della prego prego il tema della pornografia che è adesso facilmente raggiungibile da qualsiasi strumento in qualsiasi momento che sicuramente ha fatto molti danni ma parlando di adolescenti e parlando di relazioni e di relazioni non mature non si può non entrare nel magmatico mondo dei social e tutto quello che in qualche maniera condiziona non solo per gli adolescenti ma anche per gli adulti è inutile cercare di pensare come in qualche maniera arginarli perché non non si argina al mare considerando quello sarei curioso di sapere tu come come li gestisci come negli anni sei passata vivendo comunque facendo l'opinionista facendo la docente vivendo tutti i giorni dentro la società anche nella sua dimensione digitale che regole ti sei data a proposito di regole per avere una buona un buon rapporto con i social allora i social sono degli strumenti bisogna poi sempre stare attenti a non sbagliare a non come dire a non focalizzarsi troppo sul mezzo che appunto in quanto mezzo resta di fatto neutro tutto dipende da come viene utilizzato dopodiché essendo io non una nativa digitale essendo una che ha imparato a scrivere con la penna biro e che pian piano è passata dal computer poi alla post elettronica poi ai whatsapp poi a instagram facebook adesso provo anche con tiktok non riesco ancora a capire come funziona ma pian piano capirò ho comunque come dire quella che io chiamo la colonna vertebrale che permette di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è un incontro finto da un vero incontro però il discorso è che l'educazione all'uso dei social secondo me è secondario perché quello che è veramente importante è sapere che tante volte i ragazzi e le ragazze si rifugiano nei social quando c'è qualcosa che manca loro a livello relazionale nella vita di tutti i giorni perché altrimenti il social ci accompagna quando io faccio le mie dirette c'è Michela c'è Michela perché io mi chiamo Michela vivendo in Francia diventa Michela esce a casa di Michela ogni tanto io ho il martedì sera le mie dirette su Instagram c'è lo schermo i contatti sono contatti alcune volte con persone che non ho mai conosciuto però quello che io cerco di fare sono quella che io chiamo la filosofia incarnata e una cosa bellissima è che quando vado nelle città italiane incontro delle persone che mi dicono io ti ho incontrato attraverso scemi che là ecco perché dico il mezzo in quanto tale resta neutro dipende come lo si utilizza e dipende se io mi rinchiudo all'interno di un mondo che credo essere iperprotetto ma che iperprotetto non è perché i predatori esistono anche sui social oppure se lo utilizzo accanto a tutte quelle relazioni che sono le relazioni con i coetanei con i professori con i genitori con gli zii con i nonni che sono dovrebbero essere capaci di accompagnarmi anche per poter darmi gli strumenti per realizzare i sogni è difficile per un adolescente è difficile posso dire che è difficile per chiunque perché è difficile per gli adolescenti ma quanto è difficile anche per i genitori che non sanno nemmeno come funziona un social per riuscire a far passare l'idea che un conto è la relazione con il corpo altro conto sono le relazioni solo social cioè è complicato ma perché l'esistenza umana è estremamente complicata e perché veniamo da anni di un'ideologia che ci ha spinto a credere che la caratteristica umana fosse l'unipotenza della volontà per poi scoprire che invece siamo tutti fragili e vulnerabili ma siamo noi d'urtico e dobbiamo renderci conto della nostra vulnerabilità se vogliamo che i ragazzi e le ragazze accolgano la propria vulnerabilità a proposito di difficoltà leggo un brevissimo brano del tuo libro in cui tu dici semplifichiamo due punti accettare significa aderire bene ma se invece di accettare io permetto di che sorte di adesione si tratta aderisco oppure sopporto e se sopporto acconsento oppure cedo e se cedo che tipo di consenso è mai questo semplifichiamo non tanto diciamo nel senso che è difficile diciamo prima per gli adolescenti proteggersi dal rumore che intorno fanno e contribuiscono a fare sui social ma è anche molto difficile nella vita di tutti i giorni distinguere il proprio consenso anche se io appartengo a una generazione io ho 53 anni appartengo a una generazione che è la più massacrata se mi posso permettere questa espressione perché ci siamo trovati noi donne della mia generazione prese quasi a sandwich tra una generazione di mamme e di papà che di certe cose non parlavano e quindi se di certe cose non si parla come si fa a dire la propria paura a dire la propria vergogna a dire tutte quelle incertezze e dei ragazzi e delle ragazze che in realtà sono fragili ma hanno anche maggiore consapevolezza del proprio valore ecco perché chiedono che il consenso sia riconosciuto in maniera chiara nella mia generazione siamo in tante donne che abbiamo ceduto invece di consentire abbiamo ceduto a determinati mariti abbiamo ceduto a determinati professori abbiamo ceduto a determinati caporedattori sentendoci nell'impossibilità di prenderci in considerazione perché non ci davamo sufficientemente importanza perché poi il problema del cedere che non è consentire è quando si cerca di sentirsi importanti e tutti noi abbiamo bisogno di essere importanti perché se non siamo riconosciuti come importanti ci sbricioliamo essere preziosi è un'esigenza di ogni essere umano il problema è che le donne della mia generazione quando scrivevo questo libro non c'è collega non c'è amica non c'è conoscente che non mi abbia detto anche io quella volta ho ceduto perché non ce l'ho fatta ad essere sufficientemente di vita assertiva perché avevo paura perché era troppo forte troppo potente troppo importante troppo amico di del papà dello zio del sacerdote e così via quindi quello che voglio dire è che anche la mia generazione in realtà per la nostra generazione è stato molto difficile ecco perché io invito le mamme le insegnanti i papà gli insegnanti a riaprire il discorso e a mettere quelle parole giuste per dare strumenti alle ragazze e alle ragazze che io quando io ero adolescente non ho avuto perché di certe cose non si doveva parlare hai fatto un elenco si può essere difficile dire oppure si può essere portato a cedere a un amico a un collega a un superiore nel mondo del lavoro a un amico dei genitori però hai detto anche a un marito ecco io penso che il tema del consenso all'interno del matrimonio sia un sottinsieme ancora più vasto dell'insieme dal punto di vista della difficoltà Giovanni il sottinsieme non può essere più vasto dell'insieme adesso faccio la professoressa era un paradosso perché il sottinsieme non può essere più vasto un sottinsieme che ambisce ad essere a comprendere anche l'insieme perché insomma è ancora più in qualche maniera ingannevole o difficile riuscire a distinguere il consenso all'interno di un matrimonio dopo aver stipulato un'intesa di quella profondità però è una questione anche questa che da un punto di vista di anche giudiziario sta venendo molto fuori ma è proprio per questo che dicevo che la grande difficoltà del consenso e tutte le mille sfumature del consenso all'interno delle relazioni e che è un processo cioè non si dice sì a tutto quello che seguirà perché si è detto sì io prendo te come mio legittimo sposo e così via è una questione che non si chiude mai definitivamente altrimenti c'è il rischio della cancellazione dell'altro e quindi il matrimonio che si sterilizza e il sogno anche di una relazione che possa dare frutti che si infrange contro il muro del non ascolto e del non vedere la persona che c'è accanto quando ti è capitato di cedere da un altro punto di vista diciamo non nelle relazioni interpersonali come può capitare nella vita di tutti i giorni in molte situazioni ti sei sentita in qualche maniera di dover di doverci riflettere su ed eventualmente non rifarlo considerando che fosse diventato un atteggiamento pericoloso quello di in qualche maniera cedere anche solo a una proposta di svago anziché di relazione è sempre negativo cedere in qualche maniera o può avere un'accessione anche di allora dipende nel senso che se io lo intendo in senso molto lato io posso talvolta cedere su un presupposto che mi sono data ascoltando gli argomenti altrui in quel caso è un segno di capacità di rimettersi in discussione ma di per sé cedere perché qualcun altro si impone o perché io non ho sufficientemente fiducia in me o perché io non mi ascolto in realtà è sistematicamente negativo io ci ho messo talmente tanto tempo a capire tutte le volte in cui io stessa ho ceduto invece di consentire e qui torniamo e chiudiamo un po' il cerchio che ci ho messo molti anni prima di riuscire a trovare le parole giuste per scrivere questo libro e veramente torniamo al punto di partenza sono oltre 25 anni che lavoro sul tema del consenso ma questo libro è appena uscito perché prendevo appunti ma mancava qualcosa quindi ho dovuto fare tutto un lavoro per riuscire a capire proprio quale fosse il margine il limite tra il consentire e il cedere che è il tema poi di fatto di questo libro Su cosa vuoi impegnarti nei prossimi anni se adesso consideri questo cerchio chiuso dovessi partire da un tema che è vicino ovviamente a questo e che pensi che valga la pena di essere esplorato per approfondire ulteriormente Giovanni non lo so sai perché non lo so perché mi sono accorta a posteriori che i miei libri si inanellano in che senso si inanellano nel senso che il germe di quello che un giorno è diventato poi il libro successivo era già presente anche se non in una forma esatta nel precedente io in questo momento il libro è appena uscito adesso non mi appartiene nemmeno più appartiene a chi lo legge però sono ancora troppo dentro per avere quella distanza e rendermi conto di quel seme che ho piantato in qualche pagina e che forse tra qualche mese o tra qualche anno germoglierà io non lo so mai su cosa le parole premeranno per uscire per essere scritte tra tot mesi tot anni è sempre qualcosa che scopro pian piano e quando hai deciso che il tuo lavoro sul consenso o in circostanza di cosa meritava di essere messo in qualche maniera in un punto che è un libro quando la voce di Anna ha cominciato a spingere alle pariti del mio cuore cioè Anna si è imposta Anna è la voce narrante e a un certo punto si è imposta e ho avuto davanti agli occhi quello che poi è diventato il titolo sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa ho dovuto seguire Anna e lei che mi ha chiesto di seguirla perché dovevo capire che cosa stesse davvero aspettando ancora Anna e se fosse possibile o meno che qualcuno le chiedesse o meno scusa oppure se tre punti di sospensione se ci sono delle domande gentilmente il signore dello staff che riconoscete con la maglia arancione vi porge il microfono in attesa che qualcuno se qualcuno può fare domanda ecco alle sue spalle c'è una domanda dietro di lei buonasera sono Paola piacere allora innanzitutto scusa di cosa sta ancora aspettando che qualcuno le chieda scusa è una domanda no non è una domanda è una risposta allora sono rimasta colpita dalla dell'affermazione che il corpo torna sul luogo del delitto per provare a recuperare ciò che gli è stato strappato può aggiungere qualche parola rispetto a questa affermazione grazie grazie si apre tutto un capitolo ecco forse il germe no noi esseri umani abbiamo il nostro linguaggio verbale linguaggio non verbale siamo parole siamo spirito e siamo corpo è come se che il corpo non ci perdonasse per tutte le volte in cui ci siamo fatti male in cui abbiamo ceduto e a un certo punto ci spingesse a recuperare il corpo noi siamo creature incarnate e il nostro essere creature incarnate ha un senso profondo noi tante volte maltrattiamo il nostro corpo immaginando che sia la parte più negativa della nostra vita e invece il corpo non dimentica mai nulla e tante volte è seguendo il corpo che siamo costretti a ricordarci di quella volta in cui non siamo riusciti a dire qualcosa a ricordarci di quella violenza che abbiamo cercato di dimenticare a ricordarci tutte le volte in cui qualcuno ci ha detto ma tu non ci pensare più passa d'altro solo che il corpo resta e a un certo punto chiede i conti e perché chiede i conti perché vuole essere riconosciuto e vuole che attraverso il riconoscimento di ciò che è stato noi impariamo a riconoscere noi stessi è solo un abbozzo di risposta perché poi la risposta ci sono quasi 300 pagine perché è proprio all'interno di questo libro che cerco di rispondere proprio a questa domanda ma grazie grazie c'è un'altra domanda buongiorno intanto la ringrazio per ciò che ha detto anche io sono docente però di musica e musicoterapia allora volevo farle questa domanda perché mi ha incuriosito moltissimo ciò che lei mi ha detto rispetto alla sua esperienza o l'esperienza che lei ha messo attraverso possiamo dire questo suo percorso interiore profondissimo all'interno di questo libro la domanda è la seguente che cosa prova nel riattraversare se stessa quando parla di queste esperienze e gli altri bella domanda sì allora intanto posso dire che questo libro è stato estremamente doloroso da scrivere difficile perché ha riaperto alcune cose anche della mia vita ma soprattutto perché dovevo nel senso del dovevo trovare le parole giuste non mi potevo permettere che qualcosa venisse nominata male proprio perché c'è il tentativo di mettere un po' d'ordine all'interno di una materia che è molto complicata avevo bisogno di una regola la regola della precisione dopodiché ho potuto scriverlo nel momento in cui la pace con alcune cose l'avevo già fatta se no non avrei potuto e parlarne per me è importante perché so che è necessario parlare di determinate cose perché alcune cose non accadano più e quindi c'è un condividere che non è nemmeno più necessariamente così doloroso perché c'è poi la gioia nel condividere dopo che tutto ciò è stato attraversato riattraversato e comunque messo a distanza perché il personaggio di Anna non è Michela anche se il capitolo secondo è un episodio della vita di Michela quindi c'è sempre la mediazione della letteratura che permette di mettere a distanza c'è un'altra domanda prego la domanda viene rivolta alla votrice che educa allora nell'educare mancano due parole che precedono lei che è la mancanza dell'educazione sessuale e la mancanza della vittimologia noi parliamo della vittima del consenso ma non parliamo del contesto in cui questo accade sono psicanalista ed ex magistrato quindi il consenso lo vedo in due settori distinti ma ragionano sullo stesso corpo e il corpo ha la memoria e non è tanto la sua generazione ma anche la mia ho 77 anni e mi arriva gente in terapia che ha 60 o anche 70 anni e ha aspettato per poter dire perché le parole per dire non le insegna nessuno in più dobbiamo considerare l'ambiguità dei grandi vantaggi secondari le famiglie sanno gli insegnanti sanno le persone sanno ma per loro c'è il muro e permettono all'altro di restare nella vergogna senza assunzione di responsabilità sociale di difendere la vittima grazie la ringrazio molto anche perché Anna la voce narrante riapre i capitoli della propria storia con una psicanalista e affronta il tema della definizione giuridica con gli esperti alla radio quindi la ringrazio perché è esattamente come dice lei sono perfettamente d'accordo ci sono tutti questi aspetti che sono dentro bene se non ci sono altre domande noi ringraziamo Michela Marzano che però prima di chiudere legge un ultimo brano del suo libro prendo un minuto solo posso prego ripenso alle volte in cui mi sono detta che non avevo voglia volevo andarmi non stretto i pugni ho desiderato con tutta me stessa che lui la smettesse di infilare la mano sotto la maglietta di slacciarmi i pantaloni o anche solo di baciarmi no dai quante volte l'ho detto ma forse l'ho detto troppo poco troppo piano oppure troppo tardi mentre pensavo ad altro fuori stava ancora piovendo avrei trovato un taxi per tornare a casa ma quando è esattamente che l'altro smette di ascoltare provo a mettermi dall'altra parte dalla parte di Francesco dalla parte di Daniele dalla parte di Federico provo cosa avrei fatto io se l'altra persona mi avesse detto no oppure aspetta oppure non ora immagino la scena e subito penso scusa avrei chiesto scusa per non essere stata capace di capire che stavo andando oltre troppo veloce troppo lontano avrei chiesto scusa per aver anche solo usato immaginare di aver capito mentre non stavo capendo nulla avrei chiesto scusa vergognandomi di ciò che stavo facendo scusa ti chiedo scusa ma a me non è mai capitato nemmeno una volta che un ragazzo un uomo mi chiedessero scusa anzi semmai è successo il contrario e se c'è pure stata una volta in cui l'altro si è fermato l'ha fatto stizzito nervoso l'ha fatto domandandomi cosa mi stesse saltando per la testa che mi credevo di essere cos'è che cerchi che vuoi prima ci stai e ora grazie grazie a Michela Marsano grazie a tutti grazie di cuore davvero per questo incontro grazie volevo ricordare a tutti che l'evento delle 17 previsto qui la lettura d'Antis dell'undicesimo canto del paradiso il canto di San Francesco si terrà al cortile d'onore di Palazzo d'Accursio quindi non qui in piazza e l'incontro prendersi cura del cammino sinodale previsto per le 16.30 al cortile d'onore sarà alle 17 alla Cappella Farnese al secondo piano di Palazzo d'Accursio buon pomeriggio a tutti e proseguiamo nel festival francescano grazie grazie